salve salve buongiorno cosa desidera vorrei fare un ordine prego prego dica pure allora due toast ok un hamburger ok due cheeseburger ok nove crocchette ok una coca cola ma è solo per lei una porzione media di patatine fritte e una verdura ok un gelato con gli smarties ha finito sì credo di sì ok a posto così no anche un mcchicken e poi anche un super cheeseburger signorina ma come si permette non verrò mai più in questo mcdonald e ragazzi come va io sono feri niki e io sono stef e che si chiama gmod siamo qui con un nuovissimo gas ambientato nel mcdonald quindi per la felicità di stef siamo nella sua mappa preferita esattamente questo video potrebbe essere epico stiamo facendo un esperimento che non abbiamo mai provato allora la mappa del mcdonald è davvero bellissima ma è piccolina quindi questa volta gli mpc saranno soltanto 30 di conseguenza capire chi è feri niki o nel caso di feri niki capire chi sono io esatto è decisamente più fattibile quindi stiamo a vedere se con pochi mpc diventa più divertente il gas su allora faresti questa quale questa che mi ha appena passata correndo davanti no 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 sei serio stavi correndo ti sei fermata è troppo una coincidenza non sono io vabbè se vuoi ogni volta prova a sparare e vedi vedi come va no donnazione ma non è possibile e mentre vi faccio vedere la mappa giusto giusto praticamente parcheggi perché c'è il classico mcdrive qua e c'è tutta la cosa per fare l'ordine guarda ti è fatto benissimo ci sono davvero le croquette tutte le cose varie di mcdonald poi si gira qua intorno con tutte le macchine appunto ferme a fare la fila super mario per favore fammi passare super mario è sempre gigantissimo e si mette in metto qui si entra le varie poltroncine tutto carino tutto bellino e qua ovviamente dove si fa l'ordine dove avete visto il pre intro prima bellissimo qua c'è tutta la cucinetta dove si cucinano le varie cose buonissime deliziose di mcdonald qua le patatine fritte ad esempio e niente abbiamo finito allora dai fere esci fuori no no allora fere dimmi ti stai muovendo sì ok sono molto convinta delle mie abilità da nasconditrice mi viene il prurito ogni volta questo gioco che è su e quindi secondo me non mi troverai mai è presente il prurito al cervello no e quando vorresti capire una cosa in tutti i moriti concentri ma non ci riesci però sei agrid ok ho perso vita certo che per di vita perché ti ho detto che non mi troverai mai che nervoso allora sei un super mario dato che prima dei super mario sono sempre giganti no sono molto arrabbiato è giusto un problema di tremarella c'è solo tu oltretutto lo so lo so lo so lo so secondo me il personaggio che è un stanco e quindi li viene da tremare è di un fastidioso incredibile cerco un attimino di farlo smettere sbattendo sui muri e cose varie e poi iniziamo vai fere ok ho trovato una soluzione per la tremarella cosa hai fatto cosa hai fatto non te lo spiego perché ti darei un indizio gigantesco però non tremo più non tremo più ok tutto a posto tutto a posto fere inizia a cercarmi inizia a troverai mai non mi troverai mai secondo me ti sei nascosto in qualche bagno per quello non tremi più perché sei fermo nel bagno ma qui cosa bella teoria lo sapevi davvero sì che figo non so perché si può andare dal soffitto da una porta del bagno tu la apri c'è una scala e va nel soffitto fighissimo se ti interessa saperlo vai no vabbè è bellissima cioè sinceramente pensavo che non si potesse infatti prima stavo provando a saltare tramite le macchine per provare a salire sul tetto c'erano le scale sì però io volevo dire ma te l'immagini che tu ti siedi in bagno poi magari qualcuno ti scende dal soffitto oh salve normalissimo no stavo facendo una cosettina sa com'è è la cosa più normale del mondo dopo il mettona la pancia un po' piena mi sembra anche normale gli mpc vanno anche in bagno esatto gli mpc che aprono tutto e quindi ti confondono sì sì vanno anche in bagno allora no sei sicuramente fermo hanno certi bisogni anche loro tu non ti sei muovere ok non ti sei muovere silenziosamente quindi non mi so ho una tastiera che quando la tocchi suona le campane della chiesa e sono io che non mi so muovere sei questo no accidenti sto perdendo un sacco ho tirato una bomba sta perdendo vita ho tirato ahia mi sono incastato ho tirato una bomba ma non ha funzionato io ho visto un deadpool fare bug di texture gigante anche io l'hai visto fai raggi rossi sì fai raggi rossi una roba incredibile bene ho 10 di vita appunto ormai detto che sei praticamente spacciata vieni nel tetto ti devo far vedere una cosa nel soffitto ma non ci credo forse è stata la trollata più bella come ho fatto però sempre non riesco a capire come è fatta non vedermi perché ho detto non l'ha visto quindi cioè io non ho guardato vai avanti vai avanti vai avanti girati mi spieghi come hai fatto a non vedermi vieni qua bene disgraziato perché te l'ho detto tu hai fatto tutta l'aria sorpresa ho detto non l'avrà mai visto quindi non mi sono messa a girare il soffitto tu vedi che sei dietro rispetto a dove si entra io sono entrata da lì ho guardato un pochettino e sono scesa hashtag il miglioratore del mondo sono stato bravissimo a rimanere freddissimo quando hai detto ah ma lo sai che c'è il tetto e nel momento eri lì che giravi intorno io che nel frattempo hai fatto venire la tremarella a me da quanto fai schifo guarda da quanto sei imbroglione dimmi sei questo ivi no non sono un ivi no no sei tu sei tu ti ho incastrata e stai facendo finta di non esserlo adesso voglio aspettare a vedere quanto duri ok dai se ne sei convinta si no non avresti mai fatto tutto ciò ok ti ho scoperto ti ho scoperto come fai? Harry Potter questo qua sei tu no sei tu sei tu adesso io sparo aspetto un po' sparare giusto per essere simpatico però non sappiamo entrambi che sei questo Harry Potter infatti sono quelli Harry Potter o forse è questa è un po' nascosta dannazione che fastidio povero Steph povero Harry confessa ma ce l'hai con Harry ma lo stai stressando tutto il tempo ammettilo ammettilo fai non so come trovarti non lo capisco con l'ingegno con l'ingegno stai scherzando che l'hai colpito 20 volte e non ti ha fatto nulla finché non ci ho perso 20 di vita invece che 10 esatto mamma mia ti ho scoperto ti ho scoperto allora eri ferma immobile ti sento iniziare a muovere la tostiera e magicamente Alice in Wonderland si alza no hai cambiato skin dove sei? muori muori ti ho fatto apposta altrimenti non mi avresti mai visto dai certo ho detto adesso gli vado davanti se non rimane lì una vita guarda a continuare a sparare i poveri Harry Potter si 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 trovate apposta eri preoccupata perché eri avvicinati ti sei spaventata e allora hai provato a muoverti no no volevo proprio cercare di seguirti di seguirti tutto il tempo appunto che non mi vedevi ci credono tutti ci credono con pochi secondo me è un po' più divertente votate nel sondaggio che sono curioso della vostra però personalmente mi dà qualche chance in più di capire chi è ferinichi ma quando mai? io ho ripreso a tremare cioè se non ti vado davanti non mi vedi mai nella vita cioè vabbè ma che cosa chance di fatto ti ho beccato malamente e ti ho massacrato la faccia è certo perché te l'ho fatto apposta che stavi frignando tutto il tempo che non mi trovo e adesso gli vado davanti dicono tutti così cara allora vediamo dove puoi essere ovunque potrei essere un Eevee un Super Mario questo Super Mario che è metà dentro e metà fuori l'unico inizio che ti do è che c'ho la tremarella potente ogni due secondi ogni volta che tocca a qualcuno ritorna a tremare come un terremoto incredibile io non so però se ti vedo tremare quindi non è semplice no 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 tu non mi vedi tremare per quello ti ho dato l'indizio altrimenti non te l'avrei mai detto ma proprio mai nella vita secondo me mi stai seguendo sì 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 assolutamente sei qualcuno che mi segue perché stai parlando troppo disinvolto quindi al mentre stai combinando qualcosa certo 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 hai ragione quando è così sì però sei fermo ok quindi se sei fermo mi sembra buona la tua teoria dell'essere fermo sì hai ragione hai ragione allora accidenti ma perché si mettono a correre proprio nel momento in cui non devono correre perché sono dei maledetti ma dai dieci di vita non è possibile già dieci eh sì ma dai ma proprio neanche ci sia andata vicina al trovarmi però che sono passata vicino eh un sacco di volte davvero sì anche adesso quindi sei fuori vedo Deadpool che ha la skin fino a qui ma vabbè è sempre bug ma non so perché poi sempre solo uno si bugga vero sei questo Eevee buggato sotto terra certo certo che cos'è Iron Man ma dai neanche l'ho notato un Iron Man ma è facile alla fine me la sono giocata solo a camminare senza mai fermarmi tenendo premuto W e a quel punto mai che mi trovi bella no 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 sono troppo realistici dovevano farli un po' più eh un po' più stupidi lo so lo so lo so allora so già una cosa sei un Assassin's Creed perché stai deducendo questo? perché ci sono Assassin's Creed di tutti i colori ed è una cosa che non capita così normalmente ok se lo dici tu ma perché non perdo vita al primo colpo? porca miseria lo faccio a me non lo so ogni volta mi illudo mi illudo malissimo allora Assassin's Creed quale dei tanti sei? o hai cambiato skin appena l'ho detto perché ti sei spaventata? no non lo sono mai stata sinceramente si si dicono tutti così tutti gli Assassin's Creed dicono la stessa cosa sinceramente si 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 vai tu provali tutti poi vediamo come ne esci fuori sei molto simpatica allora quelli lì dietro è un po' strana cioè con gli Ivi ecco perso 10 di vita bene bravo bravo con gli Ivi e con gli Assassin's Creed oggi eh non so perché Hagrid confessa hai mangiato troppe merendine vero? ammettilo dai hai iniziato a correre bella l'ho detto io non ci posso credere te l'ho detto che sono troppo strani ti prego dimmi che sei tu si sono io vai mi hai scoperto vai mi hai scoperto allora abbassati se non sei Ferenichi non ti può capire un po' Hagrid ti devi abbassare non ti può capire non ti può capire non ti muovere non ti muovere lo sparo sembro le P.I. allora hai girato all'improvviso sei la tua skin Fere Fere dove stai andando Fere no 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 Fere dove sei finita? no Fere ti prego non so più chi sei eh oh vale mi dispiace per te no no vale non sei stato così veloce a uccidermi non vale bene la vita sei la cosa più divertente è che non ti ho mai perso di vista e ti stavo soltanto seguendo muori Io non gioco più Finisce qua il video Ma quante volte ti sto trollando Io il guest 1 non lo gioco più Non lo gioco più Ciao ciao esco dal gioco Potete offrire milioni di euro Ma è ovvio che mi trolli Non ti vedo Cioè io che se guardo da qui il tuo monitor non lo vedo lo stesso Quindi cioè anche volendo non posso vederti Praticamente tu hai fatto super 8 Ok non sono riuscita ad ammazzarti Però ti ho visto tramite la finestra Trasformarti in Ivi iniziere a correre Allora ho seguito l'Ivi che correva tutto il tempo Ma poi c'era anche un altro Ivi Non potevi seguire l'altro Era fermo Era fermo Disgraziato non poteva mettersi a correre Dico io vai a nasconderti vai 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 No è stato bellissimo Ferre È stato bellissimo Ferre come va? Male perché non ti trovo Come mai non mi trovi? Perché ci sono tante persone Eh lo so lo so è sempre difficile in questi momenti Eh boh non lo so non lo so Hai qualche indizio? Sì Ok Però seri hanno sbagliato Sono un Assassin's Creed Non è vero Dato che prima non lo eri tu Non è vero Mi sono trasformato io in Assassin's Creed E vabbè Non me sei un FBI Non te lo posso dare l'indizio se poi non ci credi Che te devo dire? Perché pensi che sia uno delle FBI scusami? Non lo so perché mi ispiri da skin di FBI Ah sì? Che cosa strana Non è normale che ti ispiro FBI Capisco ispirare magari una skin carina o cose del genere Ma l'FBI è proprio strano Fere Boh non lo so Non lo so Dimmi tu Ahia Eccoti E cavolo lo sapevo che eri lì in mezzo a fare l'FBI Vieni qua Vieni qua Raggio verde Ok Ok l'ho stordita L'ho stordita Ti ho ucciso Direttamente? Ok Come hai fatto a uccidermi? Perché io sono morta quando ti stavo uccidendo? Avevo l'abilità Vampire Che fa il raggio verde Eh l'ho capito Però ci Ti ho preso in pieno Ma lo sapevo Per una volta che avevo azzeccato la skin Non si sa per quale motivo Sì infatti era strada Ti giuro che l'ho sparata Però non so perché mi ispiravi quello Non so per quale motivo E mi va a sfiga lo stesso Ero lì che facevo finita di essere incastrato dall'inizio della partita comunque Eh no L'ho immaginato Perché capivo che non ti stavi muovendo troppo Quindi ho detto sicuramente sta facendo finta di essere in un gruppo Perché l'ho fatta anche io come tecnica Quindi ho capito E quindi ho detto probabilmente lo sta facendo e ti ho trovato lì Però anche lì in quel mucchi a zeccare la skin Guarda non è stato per niente semplice No no sei stata molto brava È stato bello Molto divertente Secondo te chi sono? Dai vediamo se indovini pure tu Allora se le indovini te la dico Senza dire bugie Ok Jack Sparrow No Peccato Peccato Dai tre tentativi Tre? Quindi altri due Ok Allora Alice in Wonderland? No Allora Scegli qualcosa che io non mi aspetto ovviamente Quindi No dire la verità ho tenuto quella con cui sono nata Perché mi è piaciuta Ok ok Non l'ho scelta Non l'ho scelta Allora Chi ti ha detto per ora? Alice in Wonderland Ah Agrida allora sei Sì Perfetto Allora sei questa qua No Vedè mi sono nascosto Ok Mi devi trovare Ok Chissà dove sei dentro fuori Perché hai trovato un nascondiglio che ho pensato Chissà Dentro il camion Se hai notato L'avevo fatto anch'io questo No ti sei trasformato in me Perché Tieni una bomba Non vale Ma dai ma ero tuo alleato Non mi puoi uccidere Pensavo anch'io sinceramente che non avrebbe funzionato Anche io lo pensavo La volevo tirare solo per scena Invece ti ha ammattato Disgraziata Anche io l'ho fatto prima lì dentro Ma mi stava tremando troppo la skin Quindi avevo paura che mi vedessi Tra me sei camion Direi che ci possiamo fermare così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Mi sono divertito tantissimo In una mappa così piccola Sì è bella è bella è bella Continuate a consigliarci nei commenti Skin che vorreste vedere nel gioco Quindi personaggi di cartoni animati Fumetti Telefilm Film Eccetera eccetera Continuate a consigliarci delle mappe Che ci vorreste vedere giocare Ne abbiamo già segnato alcune Che ci avevate proposto Diteci appunto con commento E sondaggino se preferite le mappe piccole Per il che è su E ci fermiamo così Ragazzi se non esce così Se ci lasciateci un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 c'è Ciao c'è